Un giovane di 28 anni girava di notte, anzi alle prime luci dell'alba, erano le 3.30 del mattino, con un tirapugno in tasca. I poliziotti della sezione volanti lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere. Il fatto accaduto in centro storico, l'uomo noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti di polizia, è stato fermato. Il 28enne è stato così sottoposto a perquisizione personale e in tasca, nella tasca destra, gli agenti hanno trovato un tirapugno in metallo o un oggetto potenzialmente offensivo e letale del quale ne è dietato il porto in luogo pubblico. Il tirapugno è stato sequestrato e l'uomo, come detto, denunciato.